Prima le rubano l'auto da un parcheggio a pagamento ma non custodito di San Leone e poi la vettura viene ritrovata da Grigento, priva di targhe e non più marciante. Ai contorni di un piccolo giallo, quello che è accaduto a una giovane favarese di 23 anni che aveva lasciato la propria auto in un parcheggio di Viale delle Dune, nel lido balneare di San Leone. La ragazza ha scoperto l'amara sorpresa quando è tornata a riprendere il veicolo, una Fiat 500. Subito la proprietaria ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto e ha presentato una denuncia ai carabinieri, i quali hanno subito avviato le ricerche. Qualche ora dopo un residente di Grigento ha segnalato ai carabinieri la presenza di una vettura senza targhe in via Falca e dagli accertamenti è emerso che si trattava della vettura rubata poco prima alla giovane. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti delle volanti, i quali dopo aver accertato che si trattasse della stessa auto hanno riscontrato che il veicolo non era più marciante oltre all'assenza delle targhe. Al momento non risulta che siano stati commessi reati tramite l'utilizzo della Fiat 500 e nemmeno sulle targhe sono arrivate segnalazioni. L'auto è stata restituita alla proprietaria, in corso le indagini per ricostruire tutti i tasselli del puzzle.